buongiorno a tutti buongiorno e ben trovati sono barbara sorgesa da format spia siamo qui oggi per il terzo incontro del ciclo formativo la didattica nell'ambito del modulo sulla comunicazione web e social è sempre con noi andrea marrucci buongiorno andrea e lo ricordo buongiorno da vent'anni nel mondo del giornalismo carta stampata nuovi media digitali fondatore della testata twitter cittadini di twitter punto it fondatore e membro dell'associazione del consiglio direttivo di pia social diamo il benvenuto ad andrea marrucci gli lasciamo la parola andrea a te l'aula buongiorno grazie barbara buongiorno a tutti grazie di essere presenti un'informazione di servizio come sempre faremo una piccola pausa diciamo a metà della nostra chiacchierata e per quanto riguarda le domande cerchiamo di ritagliarci uno spazio alla fine del dell'incontro per rispondere alle domande di voi scrivetele insomma in chat e a fine alla fine risponderemo alle varie domande che verranno poste oggi parleremo di policy social media policy che sono gli strumenti necessari per dare darsi delle regole nella gestione delle pagine degli account social ma in generale nella presenza in rete perché perché per tanti anni diciamo sì il il sentire comune per il sentire comune il la rete era un posto dove non c'erano regole dove si poteva fare tutto quello che che si voleva anche diciamo comportamenti che magari nel quotidiano nel nel nei rapporti fisici diciamo non non si sarebbero mai fatte nel rete si pensava fosse si potessero fare non ci fossero perché perché non ci fossero regole da rispettare questo ha portato chiaramente anche alla nascita di fenomeni assai fastidiosi insomma come che conosciamo dal cyberbullismo all'odio in rete insomma alle fake al dilagare anche delle delle fake news perché perché era facilissimo entrare in andare in andare in rete andare sui social aprire un account avere a disposizione diciamo un mezzo con cui possiamo non male fare ciò che vogliamo in realtà quello che parleremo oggi è che la prima regola quando si decide di essere presenti sugli strumenti digitali e in special modo sui social network che sono strumenti che per loro stessa natura creano relazioni in rete creano interazioni dobbiamo darci delle regole e rispettare quelle che sono le regole del web e dei soli delle varie piattaforme social che abbiamo scelto di utilizzare per la nostra comunicazione ancor di più se siamo enti pubblici dobbiamo dire dare dare l'esempio in questo senso è importante utilizzare bene questi strumenti fare anche un'opera un'opera di come dire alfabetizzazione digitale di cui questo paese ha senz'altro grosso bisogno attraverso la nostra presenza che sia una presenza corretta su queste piattaforme e questo è diciamo può essere anche la miglior risposta a dilagare dei fenomeni errati su in rete e sui social network perché perché se io sono presente sono presente bene mi do delle regole queste regole riesco a trasferirle anche agli utenti che arrivano sulle mie pagine sui miei account farò anche un'opera importante di contrasto alle distorsioni che a cui assistiamo quotidianamente banalmente se abbiamo la risposta che si può avere al dilagare delle fake news è una presenza costante e ben fatta su queste piattaforme ad esempio può capitare che in tutte le città che magari dopo una nevicata appare il post dell'amministrazione o del sindaco che dice che il giorno dopo le scuole magari saranno chiuse il cittadino a quel punto se vede circolare magari nelle chat o su altri strumenti digitali l'informazione in questo modo dove andrà a cercare a vedere se davvero quell'informazione è vera e quindi il giorno dopo è stato deciso di chiudere le scuole sulle stesse piattaforme dove ha visto la notizia che si è un posto facebook andrà a cercare magari il profilo dell'amministrazione o del sindaco su facebook e se troverà lì quella o quella la pagina che che sta cercando potrà verificare che quella notizia era falsa quindi è evidente se ci siamo e ci siamo in maniera corretta possiamo anche in qualche modo andare a contrastare in qualche modo un fenomeno come le fake news quindi per farlo diamoci delle regole delle regole molto diciamo molto semplici di convivenza civile come attraverso quelle che si chiamano le policy di cui sono necessarie diciamo due policy nell'utilizzo dei social può essere anche una ma deve essere divisa in due parti una social media policy interna ed una social media policy esterna che devono essere documenti quanto mai chiari l'abbiamo detto anche negli incontri precedenti ogni volta che andiamo a inserire un documento in rete dobbiamo cercare di essere chiari non essere documenti che informano e sensibilizzano e forniscono anche strumenti pratici per l'uso quotidiano di queste piattaforme perché se è così facile essere presenti su facebook instagram twitter non è altrettanto scontato che l'utente le sappia utilizzare in modo corretto per realizzare una buona policy è necessario e questo sia anche un documento condiviso chiaramente dal sia magari realizzato dall'ufficio comunicazione ma lavorando insieme al settore regale al personale all'informatica insomma essere un lavoro in team per arrivare a un documento che sia diciamo il più corretto possibile il più adatto possibile a quelle che sono le esigenze del mio ente ed è altrettanto importante che questi documenti siano atti diventino atti formali cioè siano approvati con una delibera magari di giunta in cui si stabilisce e questi sono le policy per l'utilizzo dei social in cui vengono stabilite tutta una serie di caratteristiche e questo è importante anche per chi ogni giorno si trova a lavorare su queste piattaforme e quindi avrà in qualche modo un atto formale in cui si stabilisce che cosa può fare chi lo deve fare e via dicendo quindi è importante non solo scrivere una buona social media policy esterna una social media policy esterna ma renderli dei veri e propri atti dell'ente la social media policy interna è quella che regola il comportamento dei dipendenti che operano il nome dell'azienda sia per chi ogni giorno si trova a lavorare su queste piattaforme quindi il team di comunicazione, il social media team, l'ufficio stampa insomma chi nei vari enti si trova a lavorare ogni giorno su queste piattaforme sia per il dipendente che in qualche modo deve stare attento ad evitare comportamenti scorretti in questo modo con una buona social media policy interna non solo si forniscono consigli si forniscono strumenti per l'uso delle piattaforme si evitano anche quelli che possono essere situazioni di conflitto perché? perché si decide anche i ruoli, cosa si può fare e cosa non si può fare non è, sembra magari scontato ma può succedere ad esempio che in un'amministrazione chiunque decida di occuparsi di comunicazione digitale perché? perché ha un account su qualunque social network che parla magari anche se lo fa personalmente può parlare invece, può essere visto come una persona che parla a nome magari dell'amministrazione la social media policy esterna invece diciamo è quella che va a regolare i rapporti fra l'ente e gli utenti quando qualcuno decide che la nostra pagina facebook è una pagina interessante da seguire perché vuole interagire con noi, quando gli diamo le regole della casa è un patto che facciamo con chi decide di essere il nostro fan per avere un comportamento corretto dire che cosa si può fare e non si può fare sulla nostra pagina e al tempo stesso gli diciamo anche che cosa facciamo noi perché siamo presenti su queste piattaforme perché abbiamo deciso che oltre al comunicato stampa, ai manifesti, al sito web a tutti i vari strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione abbiamo scelto anche di utilizzare i social che sono chiaramente degli strumenti particolari di comunicazione per quanto diffusi e diciamo di uso quotidiano quindi con la social media policy esterna si illustrano all'utenza le regole di comportamento e si dice quali contenuti troverà in quella pagina e quali saranno le modalità di relazione che avrà con la pagina del lente perché si può decidere di rispondere, di non rispondere, di moderare, di non moderare insomma ci sono varie scelte e noi le comunicheremo agli utenti quindi una buona social media policy esterna innanzitutto deve fornire le indicazioni all'utente sulle finalità che persegue l'ente stando presente su queste piattaforme sembra una banalità ma io dovrò dire che ho scelto Facebook per informare i cittadini, raccogliere opinioni, avere segnalazioni soprattutto attività che su queste piattaforme possano avvenire e io dovrò dirlo quali di queste attività andrò a compiere sui social e soprattutto se può essere la pagina magari di un ministero, di una regione, di un comune quindi come dire avere come finalità l'informazione dei cittadini ma può essere anche una pagina specifica magari legata a un progetto particolare quindi dovrò dire che magari in quella pagina non si parla in generale delle attività dell'ente ma soltanto di quel progetto e siamo presenti perché vogliamo ascoltare i cittadini magari su quel determinato contenuto quel determinato argomento quindi in questo modo si dirà anche quali sono i materiali, i contenuti che saranno pubblicati sulle pagine e quindi anche i temi e gli argomenti si potranno dibattere perché è evidente che se mi occupo, sono magari la pagina Facebook dell'assessorato alla cultura della mia città non andrò ad occuparmi di questioni che riguardano il decoro urbano o la sicurezza in città quindi lo dovrò dire prima perché se poi un cittadino mi fa una domanda che è completamente fuori dagli argomenti che si possono dibattere sulla mia pagina dovrò essere in grado di dirgli guarda, questo non è lo spazio adatto per questo tipo di segnalazioni non perché non ti voglia ascoltare o non voglia avere un'interazione con te ma perché qui si parla di questi argomenti dovremmo dire anche quali sono i comportamenti consentiti e soprattutto con quale linguaggio perché dovrò essere chiaro e questo è un passaggio importante anche per quel discorso di fare da esempio ed evitare comportamenti scorrenti in rete non è che accetto qualunque tipo di linguaggio sulla mia pagina dell'ente non siamo nel gruppo 6 di Siena 6, 6 di Firenze 6, 6 di Pavia 6 siamo nella pagina dell'ente e quindi io do delle regole anche su come bisogna porsi nel rispetto degli altri dovrò dire anche se un commento diciamo sia scorretto dal punto di vista del contenuto o del linguaggio quali sono le azioni che compierò rimuoverò quel commento oppure come dire farò soltanto una risposta darò soltanto una risposta all'utente dicendoli che è fuori argomento se insiste cosa faccio vado alla fine a bannare quell'utente della mia pagina quindi sono tutte informazioni che devo mettere nero su bianco perché? perché se mi trovassi poi a dover gestire una situazione del genere devo sapere in quale recinto mi posso muovere quali sono le azioni che posso fare sia nei confronti dell'utente e quindi avere un rapporto con lui che sia chiaro perché se io ti guardo questo commento è fuori tema come puoi vedere dalla nostra social media policy e quindi io faccio un intervento in base a delle regole ma dovrò dire anche quali sono gli orari di presidio e moderazione del mio accanto e della mia pagina perché è evidente che non posso stare 24 ore su 24 a controllare i commenti che vengono fatti ai miei post quindi dovrò dire in quale orario seguirò e quindi se c'è un comportamento scorretto interverrò con la moderazione nella mia pagina perché la moderazione e lo dirò chiaramente a social media policy non è mai preventiva ma successiva e quindi io non blocco nessun tipo di commento prima che questo venga fatto ma successivamente se è sbagliato intervengo e questo un'altra volta anche a tutela di chi gestisce l'account, insomma il canale social perché? Perché se alle tre di notte viene inserito un commento scorretto magari io intervengo la mattina successiva quindi indicare gli orari di presidio e moderazione è molto importante è chiaro, qual è il consiglio in questi casi? Cercare di avere una presenza più ampia possibile cioè non limitarsi a dire presidio e moderazione il martedì e il giovedì tutte le mattine mettiamo dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19 non è un ufficio fisico e quindi mettiamo degli orari in questo modo cerchiamo di mettere degli orari che siano i più ampi possibili possiamo anche paralmente dire che il presidio e moderazione avviene in orario di ufficio senza stare a magari a dover specificare giorno e ore però chi si trova a gestire queste piattoforme sa benissimo che poi un occhio magari ci viene dato anche al di fuori dell'orario di ufficio quindi segnaliamo anche che l'orario di presidio e moderazione è questo salvo diverse necessità perché può capitare anche che magari un cittadino un utente ha una necessità in orario magari non proprio consono e se possiamo cerchiamo di dargli comunque una risposta perché magari è un problema urgente e quindi necessita una risposta diciamolo anche quali possono essere i tempi di risposta perché? perché se io accetto le interazioni devo comunque in qualche modo adattare le mie tempistiche a quelle delle piattaforme in utilizzo e quindi non è che scriveteci pure risponderemo entro 30 giorni dovrò dire che si risponde a tutti si risponde magari il più velocemente possibile e magari diciamo anche che non tutto non tutte magari le richieste che ci vengono fatte attraverso queste piattaforme possono essere risolte all'interno di un'interazione social e magari in alcuni casi quelli più complessi si può richiedere più tempo e anche come dire limitarsi a dire guarda per trovare questa soluzione prende un appuntamento con l'ufficio tal dei tali in modo come dire da dare comunque sempre una risposta ma valutando anche il fatto che non possiamo sempre essere in grado di rispondere a tutto in tempi brevi questo chiaramente riguarda poi anche la catena di comunicazione interna ma lo vedremo successivamente in una buona social media policy esterna diamo anche delle indicazioni sulle regole di comportamento in materia di diritto dell'autore e sull'utilizzo dei marchi e i loghi dell'ente perché io andrò a pubblicare diciamo sì il marchio il logo del mio del mio ente che diventa chiaramente scaricabile da chiunque non è che uno viene sulla pagina facebook si scarica il logo dell'ente si fa la sua bella locandina e ce lo mette e poi lo diffonde sui social network dovrò dire chiaramente quali sono le regole di utilizzo questo ancora una volta a tutela del lavoro di chi si occupa poi delle diverse piattaforme è bene anche indicare qual è l'ufficio che gestisce l'account le pagine perché perché dobbiamo vedere che non è la pagina dell'amministrazione non si sa chi c'è dietro a quella pagina chi c'è dietro a quei contenuti pubblicati chi ti risponde se fai una domanda diciamolo qual è l'ufficio l'ufficio comunicazione l'ufficio stampa il social media team quindi anche i ruoli nel senso e i contatti che non è che dovete dobbiamo mettere il nostro numero di telefono personale sulla pagina facebook magari mettiamo il numero dell'ufficio o comunque anche l'ammel di riferimento perché può diciamolo che se qualcuno ha qualcosa da ridire sulla gestione della nostra presenza social può rivolgersi anche direttamente all'ufficio comunicazione formato da e questi sono i contatti perché può accadere magari abbiamo pubblicato un'immagine che non violava nessuna delle norme ma che magari per qualcuno era qualcuno vorrebbe che si muovesse quindi in quel caso magari ci manda ci contatta direttamente e affrontiamo il problema insieme dobbiamo anche ricordare agli utenti come quali sono la privacy e come noi che in qualche modo raccogliamo i dati li gestiamo nel rispetto della riservatezza sono i dati personali dobbiamo dire come verranno gestiti i dati personali acquisitiamo tra queste piattaforme perché questo è chiaramente a tutela dell'utente ma anche a nostra tutela e dobbiamo anche dire che ci sono comunque delle regole perché Facebook comunque o Twitter o LinkedIn quando andiamo ad aprire un account ci fa come dire firmare un contratto e quindi ricordiamo all'utente che sottostiamo comunque anche alle regole e alle metà d'uso della piattaforma perché in teoria non tutti gli account che possono arrivare sulla nostra pagina e interagire con noi possono rispettare i termini di uso della piattaforma se mi arriva diciamo un commento un messaggio diretto da un account che si chiama Paolino Paperino è evidente che si tratta di un account fake e quindi in quel caso va a violare quelli che sono i termini di uso della piattaforma il contratto che ha firmato con Facebook per cui io andiamo a Rucci metto il mio nome e il cognome sono io veramente Andrea Marrucci quello che è su Facebook e quindi in quel caso che cosa faccio rispondo interagisco comunque con l'account Paolino Paperino oppure devo dire guardate se siccome ha violato quelli che sono termini di uso della piattaforma io mi dispiace ma non non ti considero come un interlocutore anzi posso ne mettere nella social media policy che in caso di comportamenti scorretti nell'uso del social media posso arrivare anche a come dire fare la segnalazione al gestore della piattaforma questo perché perché molto spesso tra l'altro chi si nasconde dietro account fasulli è anche quello che magari lo fa per come dire disturbare e quindi io in questo modo mi metto anche al riparo di fronte a comportamenti scorretti nell'uso delle piattaforma la social media policy esterna diciamo fra i due documenti è quello in qualche modo in cui io scelgo delle regole le comunico ai miei utenti ed è diciamo il documento un po' più semplice da scrivere fra i due infatti anche quello diciamo più diffuso difficile ormai arrivare su una avere una presenza social senza una social media policy esterna diciamo se fino a qualche anno fa erano tantissimi lenti e amministrazioni che comunque anche pur essendo presenti su queste piattaforme non avevano social media policy esterna oggi diciamo è un documento abbastanza diffuso se ancora non siete presenti in una pagina ufficiale su questo un account ufficiale su queste piattaforme chiaramente prima di sbarcarci scrivete la social media policy esterna e anche in questo caso a questo punto la social media policy interna è invece un documento più complesso perché perché va a toccare molti diciamo va a toccare anche l'utilizzo da parte dei dipendenti dell'ente di queste piattaforme in cui in teoria dovrebbero essere liberi di scrivere ciò che vogliamo ma come abbiamo detto all'inizio non è così perché con un comportamento scorretto su un social e ancora di più magari su una apprezzazione messaggistica istantanea è facilissimo e non dimentichiamo mai che sì possiamo cancellare quello che abbiamo scritto ma nel frattempo può essere qualcuno può aver fatto uno screen del contenuto che avevamo inserito e non dimentichiamoci che come il diamante lo screen è per sempre perché se quello screen inizia a girare in rete difficilmente poi se ne riesce a far perdere del tutto le tracce quindi stiamo molto attenti e diamo dei consigli ai dipendenti quindi come dire dobbiamo dirgli attento perché se io sono presente su qualunque social e mi identifico come dipendente dell'ente o dell'azienda di servizio pubblico dell'azienda dell'azienda sanitaria io come dire quando l'utente legge quello che scrivo può pensare che io parli a nome dell'ente quindi magari magari è buona regola dire che le opinioni che esprimo su queste piattaforme sono opinioni a titolo personale devo stare attento a volte anche ai materiali che pubblico perché posso come dire avere delle informazioni dell'ente che magari in quel momento si vuole tenere riservate oppure ancora più semplicemente si è deciso magari di presentarle l'ufficio comunicazione ha deciso di presentarle attraverso una conferenza stampa una campagna mediatica un'intervista su un giornale e io magari voglio dire perché vedo che i cittadini sono tutti arrabbiati perché i lavori alla strada ancora non sono finiti vado a scrivere no non vi preoccupate il 30 il 30 di maggio i lavori saranno conclusi e come dire do un'informazione che magari l'ente non voleva fosse diffusa anche a fin di bene ma come dire stiamoci attenti perché può essere in qualche modo brucio la notizia che doveva essere diffusa perché una volta che andremo a ruggere e lavora al comune scrive questa informazione viene data per buona e quindi naturalmente anche mezzi di informazione poi vanno a divulgarla insomma faccio come sto utilizzando un mezzo di comunicazione stiamo attenti a come lo usiamo se facciamo parte di un ente posso anche come dire devo stare anche attento magari se pubblico una foto in ufficio perché non è detto che tutti quelli che sono in ufficio con me hanno piacere di apparire in una foto che poi viene pubblicata su facebook instagram o su twitter quindi come dire andiamo a identificare quelli che possono essere dei comportamenti più o meno scorretti e diamo dei consigli quindi su come utilizzare queste piattaforme è evidente quindi che su questo tipo di lavoro cerchiamo di essere inclusivi cioè non facciamo apparire queste regole come calate dall'alto cerchiamo di dire di far passare il messaggio che si sta lavorando per dare consigli utili a tutti dobbiamo anche come dire ricordare quali sono le norme le regole che in qualche modo vanno a regolare la nostra presenza su queste piattaforme e il nostro essere dipendenti del lente quindi questa è la prima parte di una social media policy interna quella in cui si va a dare una serie di consigli a indicare una serie di comportamenti scorretti e invece e corretti al personale del lente poi c'è tutta c'è tutta c'è tutta una parte diciamo di regolamento per l'utilizzo delle piattaforme ad esempio va detto qual è il personale autorizzato alla creazione e gestione delle pagine degli account perché io ufficio comunicazione che mi occupo dei social della regione del ministero del comune mi sono dato delle regole poi che cosa può accadere che una diciamo un ufficio del mio ente siccome ha tanti contenuti che ho da diffondere e decide di aprire una pagina facebook devo essere chiaro deve essere chiaro che le regole però sono le mie e quindi saprò chi mi garantisce poi che rispetti lui per primo le regole che ci siamo dati chi mi garantisce che quella pagina o quel profilo o quell'account saranno presidiati come io presidio la presenza ufficiale dell'ente chi mi garantisce che dopo tre mesi quella pagina non sarà abbandonata e quindi un cittadino magari arriva lì per parlare con l'ente e non trova nessuno dall'altra parte e quindi diciamo mi arrega un danno nella mia per la mia reputazione online quindi dovrò dire che benissimo si possono aprire anche pagine specifiche per un servizio un ufficio un progetto ma devo sapere chi andrà a gestirle come andrà a gestirle come imposterà la presenza social perché perché altrimenti rischio di vedere prolificare tante vuol dire pagine o account collegate dell'amministrazione che poi non hanno diciamo una corretta una corretta gestione quindi dovranno avere l'ok dell'ufficio comunicazione dovrò essere io a fornire una serie di materiali se vai su se fai una pagina questo è diciamo l'immagine profilo che devi utilizzare sono scelte sono regole che dobbiamo darci anche eventualmente per la gestione delle credenziali di accesso perché perché dobbiamo sapere chi ha in mano le credenziali di accesso alle varie alle varie presenze sui social network sia che sia l'ufficio comunicazione sia che sia la pagina di un servizio particolare in passato succedeva soprattutto nei piccoli nei piccoli comuni che magari il sindaco ne ho letto decideva anche di attivare la pagina facebook dell'amministrazione poi magari dopo cinque anni non veniva riletto sindaco e si portava via anche le credenziali di accesso all'accanto o alla pagina quindi dobbiamo poi dire sapere chi ce le ha ma anche perché può succedere che noi utilizziamo queste pagine insomma il social network attraverso il telefono e magari se perdiamo il telefono qualcuno potrebbe entrare nella pagina del nostro ente e fare ciò che ciò che non va affatto quindi diciamo come le gestiamo chi le ha stiamo insomma attenti a queste a questa parte anche di sicurezza e attenzione non è una parte è una parte tutt'altro che semplice perché se da un lato io devo in qualche modo avere garanzia che le password diciamo si non vanno perse dall'altro io devo gestire la pagina magari utilizzo il mio account personale e non è detto che abbia intenzione di dare la mia password a chiunque quindi è un passaggio che richiede comunque una grossa attenzione quindi diciamo la social media policy esterna in generale le social media policy ci servono per definire ruole e responsabilità innanzitutto quindi dovrò sapere chi è il responsabile dell'account della pagina facebook questo perché perché comunque non dimenticate mai che io dipendente dell'ente ho aperto la pagina ufficiale o l'account ufficiale della mia amministrazione ma per la piattaforma quella quella pagina non dipende da dall'ente ma da chi l'ha aperta quindi dal mio ne sono io con il mio account personale che l'ho aperta che ne rispondo quindi per come dire garantirsi anche professionalmente dobbiamo stabilire delle regole e farle approvare dall'ente sui ruoli e le responsabilità nella gestione della pagina questo perché può succedere anche se non è così frequente ma può succedere di dover affrontare delle crisi su queste piattaforme delle crisi che sono magari perché ci sono dei cittadini arrabbiati perché vengo tempestato di messaggi perché qualcuno può farlo anche ad arte di come dire andare a disturbare la mia presenza su queste piattaforme io devo essere in grado di intervenire e di intervenire in tempi brevi devo essere rapido nell'intervento quindi devo avere un raggio di azione ben chiaro in cui mi posso muovere sia che debba come dire compiere un'azione immediata sia che debba trovare quelle informazioni necessarie a rispondere alla crisi la monia è una crisi come sapete è una delle più complicate in generale richiede tutta una serie di azioni che se sei presente sulle piattaforme social devono avvenire in tempi ancora più brevi quindi devo essere in grado di dare risposte e lo posso fare se ho delle regole ben precise so che è responsabile che è responsabile delle piattaforme e ho anche dato delle regole agli utenti che arrivano diciamo sia interagire con me sui social network questo dunque come dire ci fornisce quelle garanzie importanti per la nostra per la presenza del nostro ente il nostro ministero della nostra regione sui social network sono importanti anche perché molto spesso quando c'è un un aggiornamento anche delle regole di utilizzo delle piattaforme che cosa si fa? si scorre velocemente fino a che non si trova dove si deve spuntare o dare l'ok e nemmeno leggiamo invece se andiamo a realizzare questi documenti in qualche modo siamo stretti anche ad analizzare i termini di servizio di uso delle varie piattaforme e siamo in qualche modo obbligati anche a comunicarli a chi è dall'altra parte dello schermo e quindi facciamo un'operazione anche per aiutare dall'altro cittadino e dall'altro dipendente a stare bene su queste piattaforme quindi diciamo la social media policy è un documento importante sia per noi che gestiamo le varie piattaforme sia per l'ente perché chiaramente essere presenti in modo corretto è la prima regola che dobbiamo darci quando decidiamo di sbarcare su Facebook su Instagram a realizzare una campagna social ma la diamo anche ai cittadini e ai dipendenti quindi sono documenti che vanno visti diciamo in positivo non come una serie di regole per cui te fai così altrimenti sei fuori dunque cosa serve per stare bene sui social e realizzare delle buone social media policy dei fatti chiari che sono social media policy estera fatti chiari con il cittadino ti dico cosa puoi fare e cosa no te lo dico in maniera molto semplice ti aiuto anche a leggere la mia policy perché in questo modo le interazioni saranno diciamo corrette perché al di là di quello che facciamo noi o del singolo commento che arriva può accadere anche che si verifichino una discussione magari fra due utenti all'interno della piattaforma e dobbiamo monitorare e presidiare e vedere che non vadano diciamo fuori dalle regole servono regole e organizzazione interna quelle che ci diamo nella social media policy interna così come dire da avere noi per primi una corretta presenza su queste piattaforme in questo modo si può garantire l'interazione e dobbiamo garantire anche gli aggiornamenti e questo si può fare da un lato con il presidio costante delle varie piattaforme pagine accanto dove siamo presenti sia nel lavoro di squadra perché è molto importante anche crearsi una squadra interna in modo che la catena delle informazioni abbia dei tempi social chiamiamoli così e il primo passo per spiegare l'importanza di questi strumenti e quindi quanto è necessario che se io ho bisogno di un'informazione da i vari uffici riescano a fornirmela in tempi brevi è attraverso un lavoro sulla social media polisi interna in cui si va a spiegare all'ente e ai suoi dipendenti l'importanza di questi strumenti di queste piattaforme che sono veri e propri strumenti di comunicazione sono strumenti sempre più utilizzati da cittadini per avere informazioni l'abbiamo visto nell'incontro precedente quanto ormai siano entrati nell'utilizzo quotidiano anche come veri e propri strumenti dove vado a cercarmi l'informazione quindi se noi attraverso una social media polisi interna forniamo queste informazioni sarà più facile poi anche andare a fare quel lavoro di squadra per garantire le interazioni il presidio sulle diverse piattaforme che cosa si consiglia ad esempio nel tono della social media polisi è meglio indicare cosa è consentito fare mettiamola in positivo piuttosto che tirar fuori una lista diciamo di divieti non puoi fare questo non puoi fare questo non puoi fare questo non puoi fare questo no cerchiamo di dire di dire su queste piattaforme si tiene questo tipo di comportamento è un comportamento corretto non si usano termini discriminatori non si usano non si offende non non si non si inseriscono messaggi pubblicitari perché ci teniamo a garantire che ci sia un ambiente diciamo un confortevole e corretto per chi arriva sulle nostre pagine è importante che le social media polisi siano armonizzate con altri documenti dell'ente regolamenti interni codice etico codice di comportamento privacy policy dell'ente dobbiamo fare in modo che i vari documenti già prodotti dalla mia amministrazione vadano ad armonizzare cioè la social media polisi sia armonizzata con i documenti già prodotti dalla mia amministrazione la visibilità è importante una volta che l'abbiamo realizzata una volta che l'abbiamo condivisa una volta che abbiamo fatto approvare la nostra social media polisi sterra interna dall'ente dobbiamo farla renderla ben visibile sia il cittadino che arriva sui social quindi possiamo pubblicarla sul nostro sito web e periodicamente invitare i cittadini andare a leggersela andate a leggere la nostra social media polisi esterna dobbiamo dire oppure ne creiamo un estratto che via via pubblichiamo perché magari può essere un documento che ha richiesto veramente una grossa mole di informazioni quindi preferiamo magari realizzare un piccolo estratto e via via andiamo a pubblicare anche sulle varie piattaforme l'importante è che questi documenti siano facilmente consultabili dai dipendenti e dagli utenti perché dobbiamo come abbiamo detto più volte con questa cacchierata fare in modo di compiere anche un'azione di educazione all'utilizzo delle piattaforme e quindi questi documenti che mirano la social media polisi che mira anche a questo aspetto deve essere facilmente trovabile se la metto nel sito web è bene magari creare una parte del sito in cui si inseriscono le varie polisi dell'ente e quindi la social media polisi che sia anche magari se qualcuno se la vuole scaricabile ok quindi cerchiamo di fare in modo che le polisi siano leggibili facilmente trovabili e comprensibili quindi vanno scritti chiaramente in un linguaggio che sia il più chiaro possibile la formazione è anche importante se io voglio crearmi una rete interna consapevole degli strumenti che ha a disposizione io come ufficio comunicazione devo in qualche modo andare anche a formare i dipendenti dell'ente spiegandogli che sto realizzando una social media polisi che è comunque aperta ai suggerimenti che è un documento condiviso e quindi in quel momento cercare anche di fare formazione spiegando quali possono essere i comportamenti scorretti sia per quanto riguarda la violazione delle regole che ci siamo dati nella polisi interna fino anche a quelle possono essere le implicazioni legali di un comportamento scorretto su queste piattaforme molto spesso non ci si rende conto ma si manca molto facilmente a violare le leggi quando siamo nella nostra magari quando inseriamo un commento un contenuto su queste piattaforme perché? perché è talmente facile talmente immediato che magari si fa e non ci si pensa oppure si crede di essere magari lo scrivo nel mio profilo personale dove ho sette amici è come se mi trovassi magari una sera a cena con gli amici di una vita e faccio magari un commento che non è esattamente quello corretto può succedere a tutti certo se lo fai scrivendolo su un social o su una chat ha tutto un altro valore rispetto a dirlo magari la sera quando torno a casa alla mia famiglia quindi stiamoci attenti e siccome è molto facile violare le regole cerchiamo anche di come dire dare le indicazioni al nostro personale ora io vi volevo far vedere alcune diciamo policy che ho recuperato in questi anni in cui mi sono occupato di social media policy alcuni strati diciamo ho preso un paio soltanto per per esempio sono però le 10 e 20 se siete d'accordo magari ci fermiamo un attimo adesso e poi andiamo a vederle nella insomma successivamente dopo la pausa in modo da come dire così ripartiamo belli carichi esatto ci prendiamo 10 minuti allora ci rivediamo per le 10 e 30 perfetto grazie 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 Andrea tra poco beh allora ricominciamo abbiamo visto che possono essere diciamo le modalità di realizzazione di una social media policy esterna una social media policy interna ora vediamo magari un paio di esempi di realizzazione di policy vi consiglio comunque di guardarvi online magari quelle policy che si possono rintracciare che sono magari più o meno complesse in questo caso ho preso la pagina web di un'azienda sanitaria che chiaramente sono diciamo un settore particolare la sanità è ancora più diciamo attenta perché possono essere una serie di caratteristiche di una policy perché è molto facile diciamo quando si parla di un ambiente sanitario divulgare anche informazioni collegate alla privacy insomma è chiaramente un settore particolare tra quello degli enti pubblici ecco che cosa ha fatto questa azienda sanitaria innanzitutto con sul sito web ha ricordato che con atto ufficiale è stato approvato il regolamento relativo alla presenza su social network spiegando che per i dipendenti collaboratori e consulenti è stata realizzata una policy interna per gli utenti cittadini una policy esterna e poi scarica dice di scaricare il pdf della social media policy ma ne pubblica anche un estratto quindi la policy interna come giusto che sia riguarda i dipendenti ma chiaramente in un'accezione più ampia anche collaboratori e consulenti dell'ente anche a loro è diretta una diretta tutta quella serie di regole perché perché si trovano anche loro ad avere che fare con l'amministrazione e quindi devono avere un comportamento corretto in base alle regole che si è dato all'ente sui social network nell'estratto si ricorda che la policy interna definisce e illustra le regole di comportamento che gli amministratori devono tenere per la gestione delle pagine social e istruzionali dell'azienda che si tratta di un'azienda sanitaria e le principali regole di comportamento dei dipendenti collaboratori consulenti dell'azienda sono tenute ad osservare nei propri profili personali da quello che ci siamo detti in una maniera molto semplice e chiara si spiega che queste regole vanno rispettate da i vari attori coinvolti e si ricorda che infatti i confini tra pubblico e privato tra personale e professionale sono molto sfumati nelle reti sociali online se ci si identificano i dipendenti della USL ovviamente ho tolto perché ce ne sono tanti di social media policy se vogliamo prendere esempio non ho fatto otto a nessuno ho tolto ovviamente il nome dell'azienda o si è noti per essere tali questo renderà facile il collegamento all'azienda per cui si lavora sia da parte dei collaboratori e dirigenti che da parte degli utenti ed è quindi necessario assicurarsi che il contenuto associato al dipendente non sia lesivo dell'immagine aziendale quindi do un consiglio guarda siccome è facile che qualcuno pensi che parli al nome dell'azienda stai attento a quello che dici su queste piattaforme quindi lo mette comunque in maniera non devi dire questo non devi fare quello ma in maniera comunque positiva a tal fine il documento raccomanda che si metta raccomanda sotto la parola raccomanda non è che dice obbliga raccomanda che si metta in chiaro che si sta scrivendo a titolo personale per proprio conto e che come da normativa vicente si rispetti l'obbligo di proteggere immagini e informazioni riservate dell'azienda e in generale la privacy di colleghi utenti pazienti perché è molto facile su queste piattaforme andare come dire a invadere la privacy anche dei colleghi per esempio anche dicevo prima magari io sono in ufficio mi scatto una foto la metto su facebook non so quanto questo ecco magari devo stare attento a quello che è pubblico sia corretto quindi stiamoci attenti a quello di lui chiaramente in ambito sanitario abbiamo visto nel corso degli anni ci sono state grosse problematiche in ambiente sanitario e diciamo nel rapporto tra utilizzo dei social e dipendenti sanitari purtroppo è capitato ma anche che immagini dei malati sono finite sulle piattaforme magari anche per un denunciato di servizio o anche per altre attività meno diciamo importanti ma più ludiche ma che comunque sono andate a invadere pesantemente la sfera magari invece del paziente con tutta una serie di problematiche che ora non stiamo a ricordare sempre nell'estratto diciamo della social media poi si pubblicato a questa azienda sanitaria si arisce che la polizia esterna illustra l'utenza le regole di comportamento l'etichetta da tenere nei profili istituzionali creati e india quali contenuti e quali modalità di relazione e moderazione ci deve aspettare in tali spazi i social rappresentano uno spazio di partecipazione in cui tutti hanno il diritto di intervenire esprimendo liberamente la propria opinione attraverso pubblicazioni di commenti e post fermo restante il requisito essenziale è l'interesse pubblico degli argomenti è evidente che l'azienda ci tiene a chiarire che io posso intervenire su un argomento liberamente se sono utente dei riassi social ci mancherebbe dato se abituati su queste piattaforme a parlare di tutto a poter esprimere liberamente la nostra opinione su qualunque tipo di questione ma è evidente che se decido di interagire magari con la pagina di questa azienda sanitaria devo parlare di argomenti di interesse pubblico non andare a parlare del mio problema personale magari di salute quindi è un chiarimento importante da comunicare agli utenti e cosa si dice agli utenti a tutti gli utenti si chiede sottolineano si chiede non è che si fa quindi una relazione di siamo in un ambiente friendly in cui ti chiedo vuol dire di comportarti in un certo modo sei a casa mia e quindi ti invito a rispettare le regole della casa quindi a tutti gli utenti si chiede di utilizzare un linguaggio orientato a rispetto altrui qualsiasi interlocutore responsabile dei messaggi che invia dei contenuti pubblici e delle opinioni che esprime gli utenti sono invitati a presentarsi sempre con nome e cognome diciamo nel senso io sono Andrea Marrucci non Polino Paverino i commenti e i poster rappresentano l'opinione dei singoli e non quelli dell'azienda anche questo è un passaggio importante da chiarire perché se io insomma non sono diciamo un utente pratico di queste piattaforme ce ne sono tantissimi arrivo nella pagina magari dell'ente dell'azienda e leggo magari dei commenti dove riesco a distinguere se sono informazioni più o meno ufficiali è bene comunque quindi dire che il certo tipo di informazioni rappresentano l'opinione dei singoli e non quelli dell'azienda che non può pertanto essere tenuta responsabile della politicità di modo che viene impostato da terzi banalmente se io dico che domani si tiene un evento e poi questo per qualche ragione è un'informazione sbagliata perché non è domani ma è il mercoledì successivo uno può dire scusa io sono cioè che è responsabile questa informazione non io anche se ho messo a disposizione diciamo il contenuto e quel contenuto non andava a violare la privacy ma è di Andrea Marrucci che ha scritto un'inesattezza ok quindi diciamolo e poi si dice saranno moderati e rimossi i commenti e poi scrivono le condizioni riportate in questo documento o in qualsiasi legge applicabile se io vado a violare social media polisi con la legge chiaramente quel contenuto sarà rimosso non devo avere dubbi in questo caso se io vedo un contenuto scorretto devo avere dei documenti che mi permettono di rimuoverlo immediatamente non devo stare tanto a non devo avere come dire dubbi sulla possibilità sull'azione che posso andare a compiere e qui si dice saranno moderati rimossi i commenti e post che vengono le condizioni di portare in questo momento in qualsiasi legge applicabile in particolare non sono ammessi e qui si fa tutto l'elenco di quelli che non sono ammessi nei casi più gravi però chiaramente l'elenco non sono stato a riportarlo nei casi più gravi in modo particolare in caso di mancato rispetto le regole condivise in questo documento l'azienda si riserva di cancellare i contenuti di valutare il ricorso al banco cioè a bannare l'utente escludere l'accesso dell'utente alla pagina alla segnalazione ai gestori della piattaforma social nonché eventualmente alle forze dell'ordine perché può succedere anche questo che io perché un utente oltre a violare la social media policy esterna le regole che ci siamo dati possa andare a violare le regole di utilizzo della piattaforma come ho detto anche prima ma anche voglio dire a fare un comportamento discorretto che in qualche modo deve essere voglio dire è passibile di denuncia alle forze dell'ordine quindi diciamolo chiaramente perché se inserisci un contenuto eh particolarmente delicato io posso anche come dire segnalarti a eh alle forze dell'ordine questa invece è diciamo una eh policy di un eh di un comune eh una social media di un comune che come vedete è molto ampia perché sono 22 pagine di social media policy fatta anche diciamo eh senz'altro eh molto bene da tutta una serie di informazioni molto utili ora io non eh non la faccio vedere integralmente ma eh come dire rispetta eh vero male quello che ci siamo detti finora perché social media perché una policy eh eh la normativa di riferimento la metodologia utilizzata mi diciamo da anche una serie di informazioni ulteriori e poi ci dice eh chi gestisce eh quali sono le regole quali sono i conti che si possono pubblicare gli orari di moderazione e via dicendo fino a eh indicare tutta una serie di eh azioni molto precise cioè se viene fatto questo io intervengo in questo modo eh e ve lo volevo far vedere ad esempio di una serie di comportamenti non adeguati per cui si può intervenire che può essere obbligazione di contenuti riferenti verso il proprio responsabile o collega a questo nella si parla della social media polisi interna pubblicazione eh di eh contenuti dove sembra l'opinione sia attribuita al comune come dicevamo prima in questo caso c'è un comportamento scorretto perché Andrea Marrucci in qualche modo mi fa portavoce eh del del mio ente utilizzo un appropriato di formazione del logo del comune quindi diamo anche in questo caso decidiamo quali sono le regole di utilizzazione pubblicazione di contenuti in cui si parla male di un concorrente anche in diretto divulgazione di informazioni riservate a interne commento in merito a informazioni sul comune insomma apertura di un profilo legato al comune senza autorizzazione qui come dire c'è tutta una serie di comportamenti o compiere il dipendente eh per eh come dire che vengono in qualche modo eh segnalati come scorretti e quindi su cui si va a intervenire eh anche diciamo nel caso della social politica polisi esterna quindi pubblicazione di un commento post schematore per genere razza etnia lingua religioso opinione politiche orientamento sessuale età condizioni personali e sociali e si prevede anche la sanzione eliminazione diretta del commento al quinto caso blocco dell'utente pubblicazione di un commento post con insulti o torpilovio eliminazione diretta del commento al secondo caso blocco dell'utente pubblicazione che abbia ottenuto politico propagandistico commerciale violento e volgare ingannevole violazione di diritti di terzi eliminazione diretta del commento pubblicazione di un ottenuto illeciti e illegali ad esempio la pedopornografia eliminazione diretta del commento e blocco immediato dell'utente segnalazione alle forze dell'ordine quindi come vedete in questo caso questo comune ha compiuto un'azione precisa dire bene di fronte a questo tipo di comportamento io mi compio questa azione ok quindi c'è stato proprio caso specifico intervento previsto in questo modo io posso intervenire in maniera rapidissima a per evitare diciamo scorrettezze sulla mia pagina o sul mio account ora diciamo parliamo anche però della community perché le social media post sono importanti nella gestione anche della nostra community che può essere composta sia chiaramente dai cittadini utenti della nostra pagina ma sia dal personale interno dell'ente questa è tutta la nostra community di riferimento per quanto riguarda la nostra presenza sui social e la gestione della community è un'altra dei fattori importanti per una buona corretta presenza su queste piattaforme che va a intrecciarsi con le policy perché pensate ad esempio qualche anno fa ho lavorato insieme a un'azienda al settore dei rifiuti per come dire formare in qualche modo lente nella gestione condivisa delle piattaforme sia dal punto di vista della creazione di contenuti perché molto spesso la community interna è quella che ti serve ad alimentare anche le tue piattaforme perché ci sono tutta una serie di contenuti che magari sono all'interno dell'ente che non hanno magari divulgazione attraverso gli strumenti tradizionali ma che invece possono essere di grande utilità per creare quella grande mole di contenuti che ci serve ad alimentare le piattaforme social quindi in quel caso con l'azienda quando sono trovato questa azienda dei rifiuti parlavamo come dire degli interventi che avevano fatti e quindi di come raccontarli poi fare dello storytelling sulle piattaforme social ma al tempo stesso abbiamo fatto un lavoro anche di educazione nell'utilizzo delle piattaforme perché in quel periodo c'è stato un cambiamento nella gestione dei rifiuti e quindi c'erano anche delle grosse polemiche da parte dei cittadini le nuove modalità e che queste polemiche molto spesso sfociavano anche lunghi dibattiti su pagine o gruppi social e i dipendenti tendevano a intervenire in queste discussioni ecco magari il consiglio è quello che il simbolo dipendente non intervenga in una discussione magari che riguarda il suo ente ma che faccia la segnalazione all'ufficio comunicazione che in qualche modo si occuperà di fare un intervento di informazione e comunicazione che vada a sedare le polemiche perché il dipendente singolo magari si trova sulle spalle a dover gestire a parlare a nome dell'ente non è detto che lo faccia in maniera corretta anche se lo fa con la massima buona fede rischia di esso stesso compiere un comportamento scorretto quindi andiamo come dire a alimentare ed educare la nostra community sia esterna che interna in questo caso per come dire soprattutto avere diciamo una community esterna partecipe che interagisce con noi che ha come dire in qualche modo ci aiuta anche nella gestione della nostra presenza sui social network le parole chiave sono in circa sempre il stesso c'è una strategia quindi dovrò decidere a monte come intendo coinvolgere la mia community non soltanto a come dire devo dire va bene ci sono quindi siccome io sono il ministero la regione il comune sicuramente le persone verranno ad ascoltarvi lo ho da dire perché racconto soltanto quello che faccio dovrò avere una strategia per cui come dire i miei messaggi devranno essere sì quello che faccio ma anche come questi possono come posso coinvolgere gli utenti nella mia comunicazione e quindi come posso favorire le interazioni perché il vantaggio di essere presenti sui social network è quello di avere una comunità e farla interagire perché mi può aiutare a far passare il mio messaggio e al tempo stesso anche fornire tutta una serie di informazioni quindi interazione ascolto ascoltare anche quello che i cittadini hanno da dirmi sui social network molto spesso questa parte è quella che fa diciamo un po' più paura diciamo perché il cittadino può intervenire e dire ciò che vuole e quindi insomma magari mi mette dice ma sì andiamo su facebook su instagram su tiktok però poi se le persone ci fanno commenti negativi che vantaggio abbiamo in realtà diciamo che i commenti negativi sono solitamente un numero diciamo non sono diciamo il quotidiano sono un numero minore c'era una sono una preoccupazione diciamo fortemente anche italiana quella dei commenti negativi c'era una ricerca di qualche anno fa ad esempio di TripAdvisor sui ristoranti in cui si indicava qual era diciamo in quale paese i ristoratori erano più preoccupati delle recensioni negative questo paese era l'Italia ma al tempo stesso il paese dove c'erano meno recensioni negative più recensioni positive era l'Italia insomma quindi come dire ora è evidente non è che un commento negativo ci fa piacere ma nemmeno deve essere la paura di avere un commento negativo deve essere quello che ci fa rinunciare all'interazione sulle piattaforme quindi ascoltiamo perché magari può essere anche che da quel commento negativo impostiamo una comunicazione positiva oppure può essere anche che quello che abbiamo quel contenuto che per noi era chiaro facilmente comprensibile non era così e quindi i cittadini hanno bisogno di ulteriori spiegazioni quindi torniamo sull'argomento ci creiamo uno storytelling cioè lo raccontiamo magari più approfondito o perché non ci aspettavamo che magari quell'argomento fosse così sentito dalla nostra community e quindi andiamo ad implementarlo quindi l'ascolto è fondamentale riuscire a vedere cosa cioè cosa hanno da dirci le persone nella nostra comunità è uno dei passaggi necessari per una buona gestione delle piattaforme social cerchiamo anche di possibilmente instaurare sempre una breve conversazione con il nostro utente soprattutto se riusciamo a spostare anche la conversazione nei messaggi diretti e nei messaggi diretti possiamo valutare anche la possibilità di utilizzare messaggi vocali sapete che podcast e messaggi vocali sono un linguaggio utilizzatissimo ormai e quindi possiamo valutare anche questo magari per incentivare come dire l'utilizzo anche di questi strumenti e favorire l'interazione della nostra community possiamo valutare di utilizzare anche in base ai contenuti che sono più apprezzati ai nostri utenti delle rubriche fisse vedo magari che ne so il il post in cui si fa si racconta di una caratteristica di un lavoro magari quotidiano che viene compiuto dall'ente è uno di quelli che funziona di più mi posso inventare la rubrica cosa facciamo e quindi vuol dire in questo modo abituare fidelizzare l'utente ai miei contenuti e quindi avere diciamo quell'interazione perché non ultimo una community che interagisce molto la mia pagina è importante perché una pagina che funziona sarà premiata dall'algoritmo l'ho detto anche nel nostro incontro precedente e quindi avrò la possibilità di veicolare a più persone la mia informazione e il mio messaggio un'altra caratteristica importante per incentivare far crescere la mia community esterna è quella di utilizzare le dirette abbiamo visto che sono uno strumento ormai diventato di uso comune soprattutto ai tempi della pandemia sono ormai una modalità che si può utilizzare su varie piattaforme che funziona molto bene perché comunque si permette l'interazione in tempo reale con i miei fan proviamo a lanciare ogni tanto una sfida alla nostra community ora non che dobbiamo invitarli a tirarsi addosso una secchiata d'acqua gelata però possiamo come dire valutare un aspetto da fare insieme o come dire dateci il vostro punto di vista su un determinato argomento raccontateci la storia magari del territorio cioè invitiamo cioè invitiamo all'azione le call to action cioè invitiamo a fare qualcosa in questo modo come dire favoriamo l'interazione e quindi il funzionamento della nostra pagina del nostro account e la fidelizzazione della nostra community perché io invece di raccontare sempre magari oggi abbiamo fatto questo da domani cambia il servizio possiamo metterci cosa ne pensi hai oppure è cambiato il servizio di smaltimento rifiuti cosa ne pensi non abbiamo paura di chiedere le opinioni anche sui social cerchiamo come dire di invitarli a fare qualcosa veramente a volte basta anche un'azione molto semplice ti piace ti piace come abbiamo restaurato piazza caribaldi se metti un like a questo posto anche questo a volte nel senso invitarli a fare qualcosa non tanto dire abbiamo sistemato quell'area da oggi è più fruibile per tutti diciamogli se ti piace lascia un like o un commento perché comunque può essere utile per la nostra comunicazione possiamo realizzare un visual che in qualche modo può essere ripreso anche la nostra community creiamo delle grafiche magari sui social possono essere utilizzate e stimoliamo gli utenti ad utilizzare banalmente anche una cornice per le foto in cui magari se stiamo facendo una campagna di promozione del territorio mettiamo lo slogan che abbiamo scelto e se io esco e faccio una foto magari la inserisco in questa cornice e la pubblico sui social tutto un lavoro per accrescere la nostra community farla essere presente e migliorare la nostra reputazione sul web e sui social sono tutte azioni importanti per la nostra community esterna cerchiamo di renderli il più possibile partecipi delle nostre scelte sui social questo chiaramente va a vantaggio anche della community interna cioè del mio personale perché se io i primi diciamo ambasciatori dell'azione che posso fare sui social network può essere il personale elente e dobbiamo ad esempio invitare se deve condividere un contenuto sui social a privilegiare magari un contenuto ufficiale dell'amministrazione invece magari andarlo a riprendere da altre da altre pagine account o siti web ci riguarda se giustamente molto spesso i dipendenti sono veramente quelli che anche ci tengono all'ente per cui lavorano e quindi se vuoi condividere un contenuto condividilo dalle pagine ufficiali o degli account ufficiali che sono questi su facebook siamo presenti qui con queste pagine su instagram su twitter questo invece l'account di riferimento via via sui vari social su cui siamo presenti oppure se devi prendere un link di una notizia controlla se questa è stata pubblicata magari sul sito web dell'amministrazione e quindi preferisci è preferibile utilizzare il contenuto ufficiale pubblicato sulla pagina dell'amministrazione piuttosto che magari quello validissimo lo stesso ci mancherebbe altro pubblicato però da il mezzo informazione online questo anche per quella cross-medialità degli strumenti di cui abbiamo parlato nel primo incontro che abbiamo fatto quindi valuta tutta questa parte e invita magari guarda anche cosa fanno e cosa fa la tua community sui social e vedi se insieme a loro puoi creare dei contenuti a divulgare ho parlato anche l'altra volta poi c'è stato magari su Instagram se abbiamo dei fan della nostra community ci sono degli account che pubblicano delle belle immagini niente pieta di fare le nostre chiaramente citando la fonte in questo modo come dire fidelizzi l'utente che premi valorizzi anche la sua presenza e diventano uno dei tuoi ambasciatori sui social network quindi strutturare una community non vuol dire soltanto essere presenti sui social presidiare dare contenuti continuamente magari anche aggiornati ai cittadini ma anche come dire avere un'interazione cioè favoriamo l'interazione chiaramente facciamo una strategia alla base su quella che può essere la nostra interazione ma invitiamo le persone a interagire perché questa è la forza di questi strumenti perché in base alle interazioni vedo posso avere tutta una serie di informazioni utili anche ad avere un feedback sulla mia presenza sui social network e dall'analisi dei dati vedrò chiaramente quali sono i contenuti che funzionano di più e quindi cercherò anche di capire il sentiment della mia community online ora andiamo brevemente perché tra l'altro il tempo non è rimasto tantissimo a vedere anche privacy e copyright perché la social media policy deve contenere una serie di indicazioni su come saranno trattate le informazioni degli utenti nel rispetto al regolamento europeo sulle regole di moderazione informazioni sulle licenze relative ai contenuti e al materiale multimediale presente sui social cioè dobbiamo chiaramente nella policy indicare come tratteremo i dati personali degli utenti e tutta una serie di regole sul copyright per quanto riguarda la privacy quindi è importante nella quando si va a realizzare il contenuto il coinvolgimento del responsabile della privacy degli utenti in questo caso ci sono si possono fare varie scelte si può prevedere di inserire una dicitura può bastare anche quella si può prevedere di come dire ampliare ulteriormente diciamo la parte della privacy e come dire inserire addirittura un documento a parte alcune alcune ente amministrazioni fanno anche questa scelta faccio tutta la social media policy alla fine per quanto riguarda la privacy faccio un documento ad hoc collegato alla privacy ma sapete è un tema particolarmente sensibile per gli utenti rispetto delle privacy di dati personali soprattutto quando si va a interfacciare con le piattaforme social se pensate a diciamo un anno fa quanto accade la whatsapp è diciamo lo strumento di messaggistica di istantanea più utilizzato in Italia per che avviene un aggiornamento della privacy si sparge la la notizia in rete dicendo che questo aggiornamento andrà a come dire a invadere sempre più la privacy degli utenti iscritti a whatsapp ecco in pochi mesi c'è un abbandono immediato della piattaforma da parte di tantissimi utenti e vanno a rivolgersi a servizi di messaggistica istantanea simili ma che garantivano una maggiore attenzione alla privacy poi whatsapp ha come dire in qualche modo chiarito il rettificato l'intervento andava a compiere e oggi è tornata veramente la chat più utilizzata però siccome su questi argomenti c'è grossa grossa attenzione cioè il fatto che ci sono stati scandali se ne è parlato tantissimo di come i dati personali che inseriamo sui social vengono trattati dalle piattaforme noi mettiamoci a riparo diciamo guarda che i dati personali che inserisci sulla mia pagina facebook verranno trattati secondo quelli che sono i regolamenti e le leggi previste dalla normativa italiana detto può bastare a volte anche una frase dal termine della polisi in cui si dice il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle polisi in uso sulle piattaforme utilizzate i dati personali o sensibili inseriti in un commento post pubblico all'interno dei canali social media delle istituzioni potranno essere criminosi chiaramente se non rispettano queste regole quindi come dire cerchiamo di approfondire il tema che siccome molto probabilmente a realizzare la polisi sarà l'ufficio stampa comunicazione social media team rivolgiamoci chiaramente a chi si occupa di privacy e il nostro ente per darci delle regole che siano quelle corrette diciamo le regole di etichetta definite dall'ente i dati condivisi agli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente ai gestori dei canali stanno trattati nel rispetto alle norme vigenti su protezione di dati personali della privacy polisi dell'istituzione quindi come dire garantiamo ai cittadini che noi la privacy la rispettiamo che le regole sulla privacy noi le rispettiamo chiaramente non dimentichiamo mai che siamo su piattaforme esterne dell'ente non si tratta di il sito web della mia amministrazione ma sono con una presenza istituzionale e ufficiale dell'ente su piattaforme esterne e quindi dobbiamo sottostare alle regole di quelle piattaforme in questo senso attenzione anche magari nella polisi a dire che eventuali messaggi pubblicitari che possono apparire insieme diciamo ai contenuti pubblicati dall'ente non dipendono da noi ma dalle piattaforme perché e tutti ci sono abituati siccome ci sono dei sistemi di tracciamento all'interno dei social network per cui può accadere che io mi sono guardato magari una serie di siti web per decidere dove andare in vacanza quest'estate e poi casualmente quando sono andato su facebook sono visto delle inserzioni che riguardavano proprio quell'argomento cioè le proposte di vacanze per l'estate 2022 questo se proprio appaiono magari a margine della pagina istituzionale dobbiamo dire che non dipendono da noi non sono io che sono andato a vedere che cosa l'utente stava guardando sul web e poi l'ho riproposto sui social ma sono diciamo messaggi inseriti dalla piattaforma che non dipendono assolutamente da noi oltre alla privacy grande attenzione va data al copyright perché quando si pubblica un qualsiasi tipo di contenuto su un sito web su un canale social una newsletter insomma uno strumento digitale bisogna accertarsi di averne il diritto dobbiamo quindi conoscere meglio quali sono le regole che determinano il diritto d'autore su online perché tutte le immagini tutti i contenuti le grafiche i video i file audio se non c'è una diversa indicazione sono coperti da copyright ovvero hanno dei diritti d'autore quindi anche se siamo su piattaforme che permettono di scaricare qualunque tipo di contenuto dobbiamo stare attenti a non utilizzare un contenuto che ha diciamo è protetto da copyright e dobbiamo quindi conoscere anche quali sono le licenze d'uso che molto spesso troviamo quando navighiamo online al tempo stesso dobbiamo dire agli utenti nella polis esterna come ho detto anche poco fa che l'utilizzo si può fare dei contenuti pubblicati dall'ente sulle diverse piattaforme cioè devo dire se quei contenuti sono liberi di essere utilizzati se si può utilizzarli ma va citata la fonte se sono come dire in qualche modo protetti a diritto d'autore quindi dovrò e possono essere utilizzate magari solo per scopi non commerciali dovrò dire che cosa si può fare con i contenuti che io vado a inserire sui miei canali social per farlo chiaramente dovrò essere io per primo a conoscere che possono essere le licenze in uso per quanto riguarda i contenuti pubblicati online perché? perché se si utilizzano contenuti che hanno un copyright e questo copyright è una licenza non aperta bisogna chiedere l'autorizzazione al proprietario se io vedo una bellissima foto della mia città che mi piacerebbe tantissimo pubblicare inserire in una grafica in cui intendo divulgare sui social network gli appuntamenti estivi del 2022 non è che posso prendere siccome è su facebook scaricare utilizzarla come voglio se non c'è un'esplicita indicazione del copyright è bene scrivere al proprietario insomma al proprietario all'utente che ha pubblicato quell'immagine per chiedere l'autorizzazione e conoscere anche come si può utilizzare perché magari invece quella foto la deve acquistare può capitare molto più spesso e molto più frequentemente di quanto si creda ora è vero che ci sono moltissime banche date di immagini online libere che non hanno diciamo ti permettono di utilizzare le foto pubblicate agli utenti perché molto spesso queste piattaforme funzionano attraverso sono delle comunità di fotografi che donano alla piattaforma le foto che scattano e queste possono essere riutilizzabili tranquillamente soprattutto se siamo in un ambito di un ente un'azienda pubblica per cui non c'è un fine commerciale nell'utilizzo di quell'immagine però ce ne sono veramente tante anche che ti danno la possibilità di utilizzare le immagini anche per i fini commerciali ma al di là di questo può capitare che magari la vedo sulla pagina facebook la voglio utilizzare e quindi prima di andarla a prendere se non c'è una specifica sulla licenza è bene chiedere l'autorizzazione e sapere come si può utilizzare stiamoci molto attenti anche perché può capitare ad esempio di cercare un'immagine attraverso uno degli strumenti più utilizzati nella cercare le immagini solamente Google Immagini e come saprete benissimo si può stabilire su Google anche se una immagine è un'immagine libera e quindi non ha restrizioni in utilizzo ma attenzione perché può essere io mi sono scaricato quell'immagine l'ho pubblicata nel mio sito senza sapere che era un'immagine protetta e magari può essere un'immagine che si crede che sia libera di poter essere utilizzata ma non è così e quindi fidarsi è bene non fidarsi è meglio in questi casi molti dei contenuti diciamo che si possono trovare online hanno una licenza creative commons quella è trovata in CIC è un modo standardizzato per definire i diritti dell'autore e diciamo le modalità di pubblicazione di un'immagine online e quindi anche sui social network i contenuti con licenza creative commons possono essere utilizzati liberamente a seconda del tipo di licenza che viene indicata ci può essere il diritto commerciale non commerciale ci può essere più o meno la possibilità di modificare il contenuto purché ci sia attribuzione al proprietario dei diritti ora chiaramente qui non abbiamo il tempo di andare a sviscerare il tema delle diverse licenze creative commons in generale quando si va a prendere un contenuto con licenza libera diciamo online si può dire il contenuto è dicando il nome dell'autore pubblicato sotto licenza creative commons e dire quale perché le licenze creative commons sono di vario genere come ho detto anche ora e vi consiglio questo materiale facilmente rintracciabile anche online andare a vedervi le diverse licenze che si possono utilizzare perché sono diciamo licenze sono queste licenze sono contratte attraverso i quali il titolare di diritto d'autore concede ad una generalità di soggetti indefiniti l'autorizzazione all'uso dell'opera i licenzianti dunque non cede i propri diritti ma ne concede il godimento a terzi a determinate condizioni e infatti ci sono di vario tipo come dicono si può leggere il viso a farlo sul nel sito web creative commons le licenze creative commons si basano sul concetto di subright reserved in base al quale il titolare decide quali diritti riservare e quali concederne in uso alla stregua delle condizioni generali di contratto le licenze creative commons seppure le disposte da un terzo ossia dall'uomo organizzazione no profit e non da un dei contraenti esprano loro efficaci e quindi si ritengono regolarmente conclusi al momento dell'utilizzo dell'opera secondo i termini dettati alla specifica licenza totale dal titolare dei diritti cosa dice che al momento in cui io mi imbatto una licenza creative commons o scelgo la licenza creative commons per diffondere i miei contenuti in qualche modo ho un contratto ok per cui quel tipo di contenuto può essere utilizzato per quelle necessità quindi quando io per primo vado a pubblicare dei contenuti sui social è bene che vada a vedere le diverse tipologie di licenza e stabilire quali di queste è adatta alle mie esigenze perché come vedete ce ne sono di vario tipo non utilizzo per fini commerciali la non modifica del contenuto di base l'indicazione della fonte quindi il consiglio è quello di andare a vedersene e scegliere quali utilizzare altrimenti si può comunque stabilire tutta una serie di regole attraverso il nostro ufficio legale è per questo che fin dall'inizio abbiamo detto che il lavoro sulle policy scuola va a intervenire su molti aspetti dell'ente è bene coinvolgere non farlo soltanto con ufficio di comunicazione ma coinvolgere l'aspetto legale personale chi so qua di privacy perché come avete visto sia nella polisi esterna che in quella interna sono molti diciamo i temi che si vanno a in qualche modo normare attraverso la realizzazione di policy ed è bene ricordare anche che le policy sono strumenti beta permanenti bisogna pensarli come strumenti che via via vanno aggiornati perché possono cambiare le esigenze dell'ente in termini di comunicazione perché io finora ero indicato nella policy come piattaforme di riferimento facebook instagram e linkedin poi magari la mia il mio ente decide di essere presente anche su un servizio di messaggistica istantanea quindi dovrò andare ad aggiornare le policy perché cambiano i termini di uso di servizio delle piattaforme e quindi dovrò aggiornare anche in quei casi la mia policy può cambiare diciamo la licenza per cui si può più o meno utilizzabile un contenuto e quindi dovrò andare ad aggiornare la policy può darsi che cambiano le regole della privacy anche in quel caso dovrò aggiornare la mia social media policy secondo me questo mondo è in continuo movimento in continuo cambiamento devo sempre pensare in questi questi documenti queste policy non è che una volta fatte le ho scolpite nella pietra resteranno per sempre così ma vanno aggiornate in questo caso chiaramente si può prevedere magari di inserire nel sito web un aggiornamento e al termine della policy dovrò dire a quando è aggiornata a quando è aggiornata il documento perché se io oggi mi trovo una social media policy esterna del 2015 saprò già che non è aggiornata con le nuove regole intervenute in tutta una serie di campi e l'ultimo nel nei termini di utilizzo delle piattaforme quindi diciamolo sempre andiamo ad aggiornare bene è aggiornata al maggio 2022 ok diciamolo sempre questo a garanzia nostra e anche degli utenti che arrivano su le nostre page e i nostri account ok credo di volevo lasciarmi questi dieci minuti finali per le domande vedo che anche oggi ci sono un po' di sono arrivate un po' di domande e quindi cerco di dare risposta a quelle che sono postate pubblicate in chat chiaramente come sempre se non riusciamo a rispondere a tutte le domande ci sarà poi un modo per dare una una risposta allora Andrea Basto chiede se può avere un esempio social media polisi interno abbiamo fatto vedere alcune alcune parti cioè piccole parti di alcune polisi interne vi consiglio di andare magari a cercare anche online perché gli enti l'hanno pubblicata l'hanno fatta senz'altro l'hanno anche pubblicata magari sul sito proprio dell'amministrazione quindi andare a cercarvi anche qualche esempio di polisi interno per come dire studiarsi un po' come altri enti istituzioni magari che sono delle stesse cose hanno affrontato il tema della polisistema se ne può trovare veramente moltissime moltissimo poi se ci sono comunque dubbi penso non ci sono problemi a eventualmente contattarci avere in qualche modo magari un ulteriore chiarimento a proposito di diritto d'autore come si fa a pubblicare immagini senza rischiare di violare il copyright beh senz'altro se si comprano questo siamo sicuri che non non ci sono problemi se chiaramente non si possono acquistare ci sono tutta una serie di banche dati online di immagini anche ben fornite immagini gratuite che hanno licenze di utilizzo per qualunque tipo di diciamo un contenuto si voglia andare a creare per qualche tipo di diffusione magari ecco Angela Bandiera posso rispondere anche attraverso per me magari indicando quali sono gli indirizzi online di alcuni dei servizi di banche dati più utilizzati e anche più forniti ora attenzione anche in questo senso a diciamo il servizio che si va a a cui si va a rivolgere anche online perché perché ci sono alcuni che sono veramente molto diffusi e il rischio è che magari quell'immagine che io vado a scegliere perché devo fare mi serve un'immagine sui giovani allora vado su uno di questi servizi che mi offrono immagini senza non ha pagamento e poi vado a creare magari la mia grafia il mio post per il servizio di informa giovani magari della della mia amministrazione o perché la mia il mio ministero sta lanciando un bando per i giovani i più giovani benissimo devo stare attento e quella stessa immagine non sia stata magari utilizzata eccoci qua devo intervenire di nuovo sui titoli di coda perché evidentemente c'è qualche problema di connessione vediamo se Andrea si riesce a ricollegare in tempo per poter terminare la sua risposta alla domanda in corso ed eventualmente rispondere anche alle prossime diamogli ancora qualche minuto io in ogni caso eccoci Andrea sì perfetto ci siamo vai 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 ti lascio la parola abbassamento del segnale quindi magari facciamo una ricerca attraverso una ricerca di immagini su web per vedere se quell'immagine non è stata utilizzata n volte magari anche per scopi totalmente diversi da quello per quello voglio utilizzare io a Luigi Di Volta c'è lo screenshot a valore probatorio la io non sono un legale al di là però di quello che può essere diciamo a noi ci interessa in questa fase veramente la reputazione che abbiamo che andiamo per il nostro ente su queste piattaforme ci interessa anche il corretto utilizzo dei vari strumenti e quindi l'avvertimento è che non sono mai in un ambiente privato quando sono su questi strumenti quindi se io vado a divulgare una serie di informazioni anche sul mio account facebook non mi rivolgo mai soltanto ai miei fan follower amici così come se sono in un chat whatsapp o in un gruppo whatsapp stiamo attenti a quelle informazioni che divulghiamo questo più che altro serve diciamo ai miei dipendenti per maneggiare in maniera corretta queste piattaforme loredana masserie chiede ma la policy deve essere divisa dall'RSU aziendali o con il comitato della privacy allora secondo me se riusciamo a coinvolgere anche l'RSU è senz'altro positivo ma se riusciamo più per più parti della mia amministrazione riesco a coinvolgere e meglio è nel senso deve essere un documento che sia il più condiviso possibile quindi apriamolo a confronto con le resti aziendali coinvolgiamo veramente ho detto prima della stesura i vari uffici si occupano di privacy degli aspetti legali dell'ente del personale quindi cerchiamo di fare un lavoro che sia più condiviso e poi presentiamola ai dipendenti e presentiamola in maniera positiva come un documento che vi è utile per stare bene su queste piattaforme ce la facciamo ancora Patrizia bisogna richiedere l'autorizzazione dei dipendenti per eventuali foto e per essere pubblicati social e istituzionali ogni volta o l'accettazione di queste eventuali sottintesse social media polisi interna bisogna specificarlo la social media polisi interna ed esterna deve essere pubblicata sul sito internet va anche condiviso da tutto il personale allora bisogna la social media polisi interna della soluzione rete sì l'abbiamo detto più volte o comunque se non è il sito dell'ente è un'altra piattaforma che sia facilmente scaricabile per il personale va anche condiviso tutto il personale possibilmente sì la lettura va presentata va condivisa magari con una serie di realtà all'interno e poi io la presenterei a tutto il personale bisogna una situazione dipendente per eventuali foto che potrebbe essere pubblicata sui social o sui social ogni volta o l'accettazione di questa eventualità di sottentrissima social media polisi interna beh allora qui dipende chiaramente l'uso che si vuole fare delle foto se io vado a raccontare probabilmente un servizio specifico voglio dire io faccio una foto convertendo il personale che andrà poi pubblicata sui canali social e quindi di consuetudine non bisogna richiedere un'autorizzazione specifica è evidente se si vuole quando magari andiamo in un ambiente dove c'è una videoregistrazione o così si può chiedere una specifica autorizzazione Patrizia di Zeo non ho capito le polisi vanno condivise con chi nella realizzazione ho detto vanno condivise una serie di uffici di privacy di aspetti legali di persone di persone dicendo vanno condivise con chi con più parti possibile del mio ente della mia amministrazione dove si può trovare un format di documento sintetico di polisi questo purtroppo diciamo io almeno che sappia io non c'è un format standard per la realizzazione delle polisi c'era un importante gruppo di lavoro che stava lavorando a definire la guida delle polisi per diciamo gli enti e le aziende pubbliche sarebbe importante sicuramente avere un format che aiuti la pubblica amministrazione a scrivere la polisi perché perché non è un documento non è un documento assolutamente semplice perché le eventualità che ci possiamo trovare ad affrontare durante la nostra presenza su queste piattaforme sono le più disparate quindi riuscire a mettere in qualche modo in rete le esperienze e dare risposte diciamo anche alle eventualità più diverse che si possono incontrare nella nostra presenza social network attraverso i documenti che siano i più completi possibili sarebbe sicuramente importanti ci sono tante social media pure se fatte bene da enti istituzioni italiane riuscire in qualche modo a mettere in rete a far condividere le diverse scelte compiute dalle amministrazioni potrebbe essere senza altro di grande utilità per tutti come abbiamo visto ci può essere l'ente che ha scelto magari di pubblicare su web 20 righe per la social media policy e ci può essere un ente che invece ha scelto di andare a realizzare le policy con un documento di 20 pagine quindi come dire dei format precisi se non ci sono sarebbe magari molto utile per tutti averlo vedo Barbara e quindi credo che siamo arrivati in fondo anche a questo intervengo infatti Andrea siamo arrivati al termine di questo nostro terzo incontro grazie a te grazie a tutti quanti i partecipanti è stato molto denso a livello di contenuti come incontro ma devo dire anche molto denso a livello di interazioni in chat ci state abituando oramai a questo vi ringraziamo perché sono tutti feedback molto utili e occasioni di confronto che senza altro sono motivo di soddisfazione per tutti noi e per l'organizzazione vi do appuntamento a strettissimo giro e cioè a dopodomani giovedì 5 maggio sempre con il nostro Andrea Marrucci che questa volta ci parlerà dello strumento della chat e di come arrivare a fornire servizi in chat nella maniera più opportuna possibile per le pubbliche amministrazioni grazie di nuovo a tutti una buona giornata ci vediamo giovedì 5 maggio alle ore 9 e 30 di nuovo a tutti una buona giornata